Sono qui con Michele Bisegna e non potevo fare alterimenti dopo la prestazione di oggi, un gruppo coeso, una vittoria che ha convinto tutti i tifosi, tutto l'ambiente, un 5 a 1 importante ma il tuo gol sicuramente è stato la ciliegina sulla torta di questa bellissima vittoria Michele. Non solo il mio, tutti quanti, bisogna fare complimenti a tutta la squadra perché non è facile affrontare queste squadre, se guardiamo la classifica si dice subito sì è fatta, è una passeggiata, invece non è così perché le partite sono tutte a giocare, sono tutte molto difficili, loro rendono cara alla pelle, si è visto il secondo tempo e comunque non hanno mollato un centimetro, anzi hanno provato a riaprire la partita, se magari segnavano anche il rigore si metteva anche discretamente in pericolo, però bisogna fare complimenti a tutta la squadra perché è una squadra che ci crede, è un gruppo forte, unito, che si aiuta, abbiamo visto ha segnato Tosse, poi ha segnato Blanco che in questo momento sta giocando poco, poi è entrata ha segnato Francesco Di Paolo, mi dispiace non è riuscito a segnare Alessandro Pendenza, però l'importante è che tutti quanti quando entriamo e giochiamo ci facciamo trovare pronti e questa è la nostra grande forza e dobbiamo portarla avanti fino alla fine. Sì, infatti tu poi non sei nuovo di questi gol su punizione, ormai sappiamo tutti la tua specialità. Bene, archiviata questa bellissima vittoria che porta l'Avizzano a 23 punti in solitaria, prima in classifica, parliamo della prossima gara, un campo che tu conosci molto bene, quello dell'Aquila, l'Aquila-Avizzano un derby sentitissimo che tu hai giocato molte volte a parti inverse anche. Sì, sì, dobbiamo vivere la settimana con serenità perché se si comincia a pensare dal martedì alla partita di domenica, arrivi che già l'hai giocata prima di giocarla, quindi dobbiamo stare sereni, uniti, allenarci come facciamo sempre e poi domenica è una partita di calcio. Sono belle partite da giocare, saranno belle perché ci sarà il pubblico, quindi stimolante e sicuramente sarà un bello spettacolo. Poi si può vincere, si può perdere, si può pareggiare, non è quello. Ci godiamo il primato per questa settimana, speriamo di rimanerci anche domenica prossima, ma comunque qualsiasi cosa dovesse succedere noi punteremo dritti sulla nostra strada perché non è l'essere i primi adesso, non dobbiamo arrivare a fine campionato primi, quindi possiamo essere anche secondi tutto il campionato e poi l'ultima giornata gli passiamo avanti. Non è quello, però certo, da fiducia, da morale e da grandi stimoli per domenica per affrontare questa partita al meglio con tutto l'organico. Dispiace per Albanese, ancora non rientra, però già che c'è tutto l'organico è una grande cosa. Grazie mille Michele Bisegna. Grazie a voi. Grazie a voi.